Al, ascolta, ti parlo d'amico. Quando cerca di dirigere la tua vita così, non fai il bene della tua carriera, ok? Ti sentiamo dopo, Al! Guarda lo show! Signore e signori, bentornati all'Helby Garrett Show! Grazie, grazie a tutti. Stasera sarà una puntata eccezionale. Stavo parlando con il famoso scrittore Alan Wake del suo nuovo libro, The Sudden Stop. Ciao, un bel libro, compratilo! Non avevo dubbi di farsi in strada per l'ultima volta. Potevo ancora pensare che fosse tutto un sogno, un'illusione. Avevo abbastanza immaginazione. Non avevo dubbi di farsi in strada per l'ultima volta. Non avevo dubbi di farsi in strada per l'ultima volta. Non avevo dubbi di farsi in strada per l'ultima volta. Non avevo dubbi di farsi in strada per l'ultima volta. Verso il amore. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione